Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar dedicato alla presentazione della piattaforma Ponti Sicuri. Io sono Ingegner Paolo Sattamino, sono direttore commerciale della divisione del BIM applicata alle infrastrutture per Arpaceas e insieme agli altri miei colleghi che mi seguiranno come relatori vi do il benvenuto a questo webinar. Nell'ordine introduco inizialmente i colleghi che poi dopo aggiungeranno qualche altra nota riguardo alla loro attività. Avremo, a parte sottoscritto, l'ingegnere Ada Zirpoli, direttore tecnico della divisione del calcolo strutturale e geotecnico, Gabriele Svaluto, direttore tecnico della divisione BIM strutturale e l'ingegnere Roberto Redaelli, responsabile tecnico della divisione BIM infrastrutture. Tutti insieme abbiamo il piacere di farvi questa presentazione relativa a questa piattaforma che ha come obiettivo quella di prendere spunto da tutto quanto accaduto a partire dall'emanazione del DL 109 del 2018, il cosiddetto decreto Genova, a cui seguita l'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si è concretizzata con la redazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio e la valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei punti esistenti. Prima di introdurre la piattaforma con un maggiore dettaglio, voglio spendere qualche parola per presentare la nostra azienda. Ovviamente per molti di voi che ho visto collegati un po' ci conoscono, ma mi fa piacere darvi un aggiornamento considerando un po' le ultime attività che stiamo svolgendo. Allora, l'ARPA-CEAS è una realtà che dal 1990 opera come realtà che offre prodotti, software e servizi dedicati al settore delle costruzioni. Noi veniamo ovviamente da due realtà piuttosto note del territorio, la Sudofenze Associati e la CEAS, che ad oggi sono due società di ingegneria che si occupano soprattutto degli ambiti delle strutture della geotecnica e anche di tutte le tematiche relative all'applicazione del BIM a queste discipline. Oggi ARPA-CEAS presenta un portfolio molto ampio sia a lato tecnologia e software, ma offre anche una piattaforma molto vasta di servizi dedicati alla diffusione e introduzione all'interno di qualunque tipologia di azienda della metodologia BIM. ARPA-CEAS vuole essere protagonista della trasformazione digitale che è in atto ormai da diversi anni nel settore delle costruzioni ed essere partner con qualunque soggetto che opera nella filiera delle costruzioni che ha desiderio di introdurre sia metodologia in ambito BIM sia tecnologia specializzata per affrontare tutti i diversi aspetti relativi a chi opera in questo settore. Noi lavoriamo ormai con tutti gli operatori che occupano il settore delle costruzioni da chi fa progettazione in senso stretto fino ad arrivare a chi si occupa che è gestore di opere, sia perché magari costruisce nuove strutture oppure nell'ambito dell'argomento di oggi, chi gestisce infrastrutture esistenti. Il portfolio dei nostri prodotti è piuttosto ampio e parte ovviamente dalle software per la modellazione BIM che coprono le varie discipline, le strutture, gli impianti, l'architettura, le infrastrutture lineari, eccetera, per poi passare a prodotti che fanno parte del grande mondo del common data environment e quindi prodotti che in parte oggi vedrete applicati alla piattaforma Punti Sicuri che consentono di aggregare i modelli di qualunque tipologia, sia di opere puntuali, sia di opere lineari e anche strumenti molto specializzati per tutta quella che è l'attività cosiddetta di information management. Poi abbiamo un settore che è quello nostro storico che copre tutta la parte relative alle calcolazioni specialistiche, quindi alla vendita e proposte di software specialistici per il calcolo strutturale, per il calcolo geotecnico possiamo dire a 360 gradi. Arpacias inoltre da alcuni mesi si sta occupando anche di una proposta relative al tema della mixed reality con dei device specifici che consentono di fare una completa immersione tra quello che è l'oggetto realizzato in sito e il modello virtuale che è stato precedentemente realizzato. Arpacias offre una gamma completa di servizi in ambito BIM che possiamo, diciamo, riassumere velocemente in tre grandi ambiti. Una formazione di base che è fondamentale per chi ha bisogno di creare un tessuto iniziale di conoscenza, soprattutto di tipo normativo, tecnologico e metodologico, sul tema del BIM, per poi passare a un vero e proprio affiacamento consulenziale nel momento in cui una società, uno studio, un'azienda, indipendentemente dalla sua dimensione, ha bisogno di sviluppare alla fine quelli che sono le proprie criteri con i quali vuole lavorare in BIM a seconda della sua posizione all'interno della filiera, diciamo, del settore delle costruzioni, per poi arrivare a costruire le proprie linee guida interne puntando anche al tema della certificazione sia delle singole figure professionali sia come organizzazione. Arpacias è un organo, diciamo, di valutazione presso i CMQ per il conferimento della certificazione delle figure sia singole, quindi così dei famosi manager coordinator specialist, e CDE manager, e anche possiamo supportarvi per arrivare alla certificazione come organizzazione. Da diversi anni Arpacias ha sviluppato proprio interno un team specialistico che si occupa della customizzazione dei prodotti software. Questo serve soprattutto, e lo vedrete applicato anche in quest'ambito della piattaforma Ponti Sicuri, perché per alcune discipline, per alcuni ambiti, diventa sempre più importante partire, ad esempio, dalla tecnologia standard che possono offrire i prodotti sviluppati dalla software house per poi andare a ottimizzare questi prodotti creando, ad esempio, dei flussi informativi ad hoc, aumentando magari la disponibilità o la capacità che certi strumenti hanno di scambiare i dati, estendere le capacità di modellazione o di appunto scambio dati di alcuni software. Quindi noi siamo ormai abituati ad accompagnare il cliente oltre che la proposta di servizi e software, diciamo, che partono in una configurazione standard con ulteriori add-on su richiesta specifica perché per alcuni ambiti stanno diventando ormai determinanti per far sì che un'azienda possa fare un salto in avanti nella propria competitività a livello di mercato. Da tantissimi anni poi offriamo servizi a 360 gradi nell'ambito del calcolo strutturale e geotecnico. Noi quotidianamente affianciamo i nostri clienti che hanno bisogno di approfondire le tematiche di modellazione, calcolo, validazione dei modelli, definizione strategica di modellazione, ogni qualvolta poi, diciamo, i nostri clienti trovano ad usare qualcuno dei nostri prodotti di calcolo che sia strutturale e geotecnico per risolvere situazioni specialistiche particolari per le quali hanno bisogno di essere affiancati in maniera più specifica rispetto alla normale assistenza. I nostri clienti quindi vivono quotidianamente un'experience abbastanza varia che si, diciamo, dirama su diversi ambiti, il classico supporto tecnico, l'eventuale affiancamento sul progetto, una formazione continua che può essere a tutti i livelli e ovviamente poi abbiamo uno spazio riservato sul nostro sito dove diamo a disposizione materiale di vario natura che è molto utile come supporto continuo ai nostri clienti che fanno uso dei nostri strumenti di vario tipo. La PaceaSat da diversi anni si occupa e partecipa e offre percorsi formativi di varia natura lavoriamo con tantissimi ordini degli ingegneri con diverse associazioni siamo co-creatori di diversi master che sono ormai molto consolidati in varie regioni di Italia e quindi possiamo dire che oltre alla nostra attività ovviamente legata al business legata alla proposta dei nostri servizi e tecnologie ci riteniamo anche in grado di dare un grande contributo allo sviluppo della cultura nell'ambito del BIM, nell'ambito della sismica nell'ambito di tante altre applicazioni nelle quali noi contribuiamo a far crescere la conoscenza e sensibilità nei confronti del mercato. Siamo anche parte attiva nella contribuzione della scrittura di normative BIM sia a livello italiano sia a livello europeo diverse persone di Arpaceas contribuiscono in maniera quasi quotidiana all'evoluzione della normativa 1-11-337 infatti abbiamo diverse persone che partecipano a diversi gruppi di lavoro e la stessa cosa avviene per quanto riguarda la partecipazione ai gruppi che fanno parte invece del CEN quindi che hanno più un respiro di tipo europeo. Allora, prima di entrare diciamo con una prima introduzione mia per poi lasciare la parola con lei che c'è la piattaforma Ponti Sicuri vogliamo lanciare un sondaggio primo sondaggio abbiamo il piacere un attimino di avere una prima visione grandi linee dei partecipanti che sono collegati a questo webinar sì, ho lanciato adesso il sondaggio la domanda è a quale categoria di azienda appartenete state già rispondendo in moltissimi lascio ancora un po' il sondaggio aperto ok lasciamo ancora un attimo il tempo che possiate rispondere tutti perfetto aspettiamo ancora qualche secondo va bene non stanno avendo più risposte vi ringrazio termino il sondaggio ok vai vai ok allora riprendo la parola allora vi introduco la piattaforma Ponti Sicuri allora Ponti Sicuri è la soluzione Beam Based o Smart come vogliamo definirla per la classificazione del rischio la gestione della sicurezza per ponte esistenti in accordo alle nuove linee guida avevo accennato all'inizio questo tema delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio come sappiamo questo documento è stato approvato lo scorso 6 maggio 2020 e poi è recepito dal DM 578 penso che molti di voi sappiano che questo documento stabilisce una chiara sequenza di lavoro definendo da un lato le azioni quali i censimenti le ispezioni la classificazione della classe di attenzione e dall'altra definisce anche le figure coinvolte nel processo in particolare poi la collega Zirpoli vi darà tra poco alcune notte un po' più di dettaglio su questi aspetti sappiamo anche che qualora il manufatto in questo caso un punto esistente rientra nella classe di attenzione 4 o nel caso in cui il professionista incaricato attribuisca fin dall'inizio per la situazione in essere del manufatto una classe di attenzione a punto 4 l'esercente deve avviare l'attività di verifica della sicurezza in questa fase quindi le linee guida esprimono come anche l'esercente può avere la facoltà di chiedere che questa attività venga espletata anche tramite l'utilizzo della metodologia BIM e questo è l'aspetto centrale su cui si inserisce la nostra proposta allo scopo di rispondere a queste ultime indicazioni Arpacea ha intrapreso una serie di attività da un lato un approfondimento dei flussi di lavoro definiti dalle linee guida anche diciamo partecipando a un progetto di ricerca con l'università di Pisa del quale Arpacea ha potuto mettere a disposizione le proprie espertise nell'ambito della digitalizzazione e anche alcune proprie tecnologie abbiamo individuato quindi al nostro interno la lista di software che potessero essere adatti per affrontare questo aspetto di digitalizzazione quindi andando a individuare le piattaforme che hanno potevano diciamo esprimere la migliore diciamo specializzazione per questa diciamo tipologia particolare di strutture che sono i punti abbiamo poi sviluppato facendo riferimento a quello che vi ho detto poco fa di quello che fa il nostro gruppo di business development di BDC development alcuni tool specifici a completamento dei software che avevamo inizialmente individuato e quindi i punti sicuri è la risposta di Arpacea alla richiesta diciamo possibile di digitalizzazione delle linee guida è una soluzione beam based per la gestione digitale e quindi della classificazione del rischio la valutazione della sicurezza il monitoraggio di ponti esistenti la soluzione si inserisce chiaramente in un contesto di grande fermento perché chiaramente si sta parlando tantissimo di tematiche quali la sostenibilità delle strutture quindi basti pensare anche a tutto quello che può derivare dal recente piano nazionale di riprese e resilienza che è stato sviluppato dal governo la procedura la procedura questo vedete è il quadro diciamo delle piattaforme che compongono la piattaforma ponti sicuri che cosa consente di fare innanzitutto consente di acquisire e archiviare i dati in due ambiti da un lato all'interno dell'ambiente diciamo di modellazione che abbiamo individuato essere tecla structure ma soprattutto all'interno dei due ambienti di aggregazione che sono qua riportati in basso uno è il Trimble Connect che consente appunto di effettuare l'aggregazione dei dati dei modelli ma anche dei dati documenti esistenti di una tipica opera infrastrutturale che si connette se va in sinergia a quello che è il Trimble Quadric che è l'ambiente grazie al quale noi possiamo anche effettuare una contestualizzazione territoriale della nostra opera e questo è fondamentale perché un qualunque ponte esistente si inserisce sempre all'interno di un'opera aviaria quindi grazie a questi due strumenti di aggregazione e collezione di dati documenti e modelli si realizza una prima fase fondamentale di digitalizzazione di quello che può essere tutta la massa di dati che tipicamente si eredita da un ponte esistente la piattaforma si occupa anche del tema della modellazione BIM dell'opera un'attività che magari per molti di voi può essere già abitudinaria ma magari viene più svolta oggi nell'ambito di nuove strutture dove per alcuni ambiti soprattutto i building ma anche nell'ambito ormai delle opere d'arte come ad esempio ponti nuovi eccetera molti professionisti molte società molte aziende si stanno già cimentando nell'utilizzo di strumenti BIM di autoring per la modellazione di queste opere ecco il punto focale è la possibilità di utilizzare questi strumenti in questo caso noi abbiamo selezionato il nostro prodotto più specialistico nell'ambito strutture che è il declastrator perché consente in maniera naturale di modellare non solo gli oggetti nuovi ma anche l'oggetto esistente fino al livello di dettaglio che viene ritenuto opportuno per il livello di indagine che si vuole realizzare ovviamente siccome parliamo soprattutto dei ponti che vanno in classe 4 classi di attenzione 4 e che quindi meritano un'analisi di dettaglio strutturale è chiaro che si pone anche il tema di andare a individuare un opportuno modello di calcolo ecco in questo senso vedrete tra poco come sfruttando la modellazione iniziale BIM all'interno di un modellatore BIM strutturale quale tecla si può pensare di avere una prima base di riferimento per quello che poi diventerà il vero e proprio modello strutturale ovviamente verrà risolto da prodotti specialistici dedicati al calcolo strutturale per poter consentire da un lato un'adeguata organizzazione di tutta questa base dati relativa al manufatto esistente e dall'altra anche creare un efficiente dinamico collegamento di tutti questi dati sia diciamo in particolare alla piattaforma di aggregazione abbiamo sviluppato dei tool specifici che tra poco il collega Gabriele Svaluto vi presenterà con più dettaglio che sono uno che consente il VBS consente di organizzare tramite appunto il concetto tipico della VBS World Breakdown Structure che è tipicamente utilizzata in tantissimi progetti da molti di voi che saranno già diciamo ben consci di che cosa di che cosa stiamo parlando ma applicato ai dati documenti che noi andiamo a inserire all'interno della nostra procedura di digitalizzazione e questa è un'operazione molto interessante perché consente di avere una grossa strutturazione e organizzazione dei dati dall'altra un document controller che consente di ampliare le già interessanti potenzialità presenti particolare con l'obiettivo di andare a collegare in maniera dinamica tutti i dati documenti che sono che posso associare a diversi oggetti che fanno parte di un'opera esistente in modo tale in sostanza che alla fine io mettendomi diciamo nei panni di un gestore diciamo di opere che magari comincia a dialogare con professionisti esterni che si occupano prima dell'ispezione e poi contribuiscono alla digitalizzazione la nostra idea è quella di nel tempo andare a creare una base dati digitale che è l'equivalente oggi di tutta quella base dati magari cartacea o sotto forma di file però diciamo di livello un po' meno fruibile meno interoperabile con l'obiettivo di creare una base dati che nel tempo possa essere costantemente aggiornata e arricchita e quindi diventare chiaramente un ottimo punto di riferimento non più diciamo basato su una carta o qualcosa di simile ma completamente digitalizzato chiaramente tutti questi software sono conformi all'approccio Open BIM che per noi è l'asse importante di tutte le nostre attività nella modellazione dell'attività in ambito BIM perché chiaramente Open BIM significa poter essere interoperabili con tantissimi altri attori e quindi anche con altre tipologie di piattaforme quindi quelle che vedete da poco sono quelle sviluppate dal nostro diciamo da Arpaceas e che sono il cuore diciamo della nostra piattaforma ma chiaramente dobbiamo immaginare di porci una situazione in cui si può dialogare con tante altre tipologie di strumenti chiaramente il formato di EFC fa da padrone in tutto questo scambio dati soprattutto nell'ambito dello scambio dei modelli tra i vari prodotti di modellazione prodotti di aggregazione modelli eccetera e potrebbe anche essere usato un po' come base ma poi vedremo meglio i dettagli per costruire un po' la base del modello di calcolo strutturale a corredo di questa piattaforma ovviamente introduciamo la web app PT3 che fa parte possiamo dire fa parte di questa proposta è una web app sviluppata e messa a disposizione gratuitamente dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa e PT3 si configura come uno strumento fondamentale perché aiuta a risolvere la fase preliminare prima di entrare nel mondo della digitalizzazione è un portale è uno strumento che consente di digitalizzare le schede ispettive consente di calcolare in modo dinamico interattivo la categoria di attenzione e quindi è sicuramente o sarà sicuramente utilizzata da chi si occuperà della fase ispettiva quindi è uno strumento agile usabile anche in cattiere ma serve proprio per cominciare a introdurre la prima set di dati e chiaramente questo poi fa diciamo si collega al tema del database nazionale INOP chiaramente è in fase di evoluzione questi due strumenti sono quelli cardine da cui poi si sviluppa l'attività diciamo i primi livelli diciamo descritti da linee guida per poi diciamo arrivare a mettere poi dentro questi dati più altri all'interno di piattaforme come la nostra quindi come punti sicuri la nostra proposta ovviamente non si limita a una proposta software ma è completa di tutta un'attività di formazione che è divisa tra tutti i vari componenti delle nostre della piattaforma ponti sicuri quindi comprende tutti i vari applicativi che poi vedrete descritti con maggiore dettagli oltre a questo ovviamente è prevista anche un affiancamento specifico nel momento in cui l'utente ha bisogno invece di essere proprio affiancato anche su un caso molto specialistico che richiede ovviamente una formazione extra rispetto a quella di base questa era la mia introduzione lascio la parola a questo punto alla collega Zirpoli che vi farà una prima introduzione sui flussi informativi e qualche parola sulla web PT3 grazie 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 a te benissimo allora buongiorno a tutti mi presento sono l'ingegner Zirpoli sono il direttore tecnico della divisione di calcolo strutturale geotecnico presso Arpaceas in questa mia prima presentazione voglio innanzitutto illustrarvi con due diversi schemi i flussi proposti dalle linee guida in modo da poter inquadrare meglio al loro interno il pacchetto e i vari prodotti che proponiamo successivamente dirò due parole anche sulla web app PD3 che poi è di fatto il punto di partenza tecnologicamente parlando di questo flusso e concluderò poi più avanti durante il webinar con la tematica del dialogo tra il mondo BIM e il mondo del calcolo quindi il mondo FEM allora in questa prima slide ho riportato così proprio come viene proposto dalle linee guida il flusso di lavoro essenzialmente si tratta di una procedura pensata per la gestione sappiamo la gestione della sicurezza dei punti esistenti la finalità è quella di prevenire dei livelli inadeguati di danno in modo da rendere eventualmente accettabile il rischio come si può vedere metto il laser vediamo se riesco ok come si può vedere noi abbiamo un primo livello un primo step di questa procedura che è caratterizzato da un censimento iniziale censimento barra ovviamente geolocalizzazione dell'opera quindi si intende quella raccolta dei dati fondamentali dati generali principali dell'opera a questo segue la parte relativa alla classificazione del rischio sismico prima però di arrivare alla classificazione del rischio è necessario raccogliere tutti i dati che servono per il calcolo di questa classe di attenzione e quindi lo step successivo che è il livello 1 consiste di fatto in una campagna ispettiva a cui segue la ridazione di schede ispettive schede anche dette di difettosità che sono proprio fanno parte delle linee guida trovate proprio in appendice costituiscono un appendice corposa delle linee guida sulla base di questi dati viene poi calcolata una classe di attenzione siamo al livello 2 lo step 2 della procedura la classe di attenzione viene calcolata con algoritmi piuttosto complessi perché devo riguarda sia tiene in conto sia della pericolosità che dell'esposizione che della vulnerabilità dell'opera e poi attenzione non stiamo parlando solo degli aspetti strutturali ma stiamo parlando anche del rischio sismico degli aspetti idrogeologici che comprendono quindi ad esempio la parte di frane quindi aspetti magari più propriamente geotecnici e come un socio di menti fondazionali e poi la parte del rischio idrologico detto questo con questi algoritmi che tengono in considerazione tutti questi aspetti si può partire da una classe bassa di attenzione una classe medio-bassa e qui comunque non vuol dire che se arrivo in classe bassa o medio-bassa non faccio nulla cioè da qui partono comunque una serie di ispezioni periodiche e una sorveglianza e un monitoraggio continui che devono riguardare tutte le opere in qualunque classe esse ricadano e poi si può passare appunto da queste classi medio-basse fino ad arrivare a una classe media medio-alta fino alla classe alta dove sta la differenza diciamo che andando verso la classe media o medio-alta oltre alle ispezioni periodiche potrebbero essere necessarie delle ispezioni straordinarie e comunque al termine si arriva allo step 3 della procedura a livello 3 che è una valutazione speditiva del rischio della struttura infine per classi medio-alte e alte può essere necessario anzi per classe alta certamente arrivare a un livello 4 di indagine che è una valutazione accurata della sicurezza ed è proprio in quest'ambito che le linee guida suggeriscono l'utilizzo di un approccio BIM e essenzialmente noi oggi ci inquadriamo all'interno di questo diciamo in questo nodo di questa procedura guardiamo il flusso sotto un altro punto di vista in questo grafico noi abbiamo messo sostanzialmente è possibile seguire il flusso da sinistra verso destra in senso temporale e abbiamo voluto mettere in evidenza invece sull'asse delle ordinate quali possono essere gli attori coinvolti in questo flusso quindi si parte abbiamo detto dal censimento ok il censimento viene fattivamente svolto dall'esercente dell'opera e viene demandato dal dal ministero il il censimento abbiamo detto costituisce lo step 1 il livello 1 segue subito dopo scusate il livello 0 segue subito dopo il livello 1 che è l'attività ispettiva l'attività ispettiva viene attivata dal conferente stesso conferente esercente dopo aver svolto il censimento viene attivata e viene demandata a diverse figure professionali qui abbiamo generalmente chiamato ispettore capite diverse figure perché appunto si parla di diverse tipologie di rischio come ho prima citato e poi l'attività ispettiva prosegue cioè parte l'attività ispettiva qui abbiamo voluto mettere in evidenza due aspetti che sono sottolineati dalle linee guida cioè quelle strutture per cui sono richieste ispezioni speciali ok comunque dopo aver attivato queste ispezioni speciali attivazione sempre che avviene da parte dell'esercente ispezioni che avvengono da parte appunto della figura ispettiva abbiamo il calcolo della classe di attenzione ci sono poi però anche delle opere descritte sono i casi descritti al paragrafo 5 delle linee guida sono essenzialmente quelle opere che manifestano intrinsecamente un'elevata fragilità come ad esempio i ponti in Ciappiaconci per cui diciamo si arriva alla classe di attenzione 4 senza passare dal via ecco osserviamo che sia al termine diciamo dell'attività ispettiva sia proprio al termine del processo abbiamo voluto indicare qui in tratteggio quello che sarà la procedura a regime cioè il fatto che a regime si convoglieranno tutti questi dati e tutti questi risultati nel database nazionale INOP quindi siamo arrivati qui quasi al termine abbiamo calcolato la classe di attenzione e supponiamo di avere una classe di attenzione che sia inferiore a 4 però come dicevo prima non è che non faccio nulla vedete che si avvia tutto un loop di fatto il processo non ha fine tutto un loop che comprende le ispezioni periodiche la sorveglianza il monitoraggio e periodicamente il ricalcolo della classe di attenzione mentre invece se ricadiamo in classe 4 viene attivata sempre dall'esercente viene attivata la metodologia BIM metodologia BIM è possibile attivarla attenzione è un suggerimento delle mie guida metodologia BIM che è in capo appunto ai professionisti dei servizi BIM che per la loro diciamo partenza per la partenza per la costruzione di tutti i modelli che fanno che poi appunto formeranno il modello informativo della nostra infrastruttura hanno bisogno però di un servizio aggiuntivo che è quello del rilievo perché i dati ispettivi che abbiamo raccolto nelle schede ispettive non sono sufficienti deve partire una campagna di rilievo campagna di rilievo attivata dall'esercente in capo ai servizi di rilievo e sulla base di questi dati possiamo effettivamente costruire un modello BIM che sia il più affidabile possibile e interagire con il mondo del calcolo al termine di questo si esce sempre a regime passando da INOP e comunque sempre si termina in questo loop infinito dell'ispezione della sorveglianza del monitoraggio ok quindi abbiamo presentato il diciamo sotto questi due punti di vista i flussi delle proposte dalle normative all'inizio abbiamo detto sta l'attività ispettiva attività ispettiva compilazione delle schede ispettive e calcolo della classe di attenzione come anticipava il collega Sattamino questo può essere anzitutto deve essere informatizzato perché non so se avete visto gli algoritmi proposti dalle linee guida sono molto complessi anche se lineari però devono tenere in conto veramente di centinaia e centinaia di dati e appunto come si vede qua in basso a sinistra tener conto di pericolità esposizione vulnerabilità in diversi ambiti strutturale sismico frane e rischio idrogeologico quindi c'è bisogno certamente di una informatizzazione di questa attività qui vediamo ad esempio una parte del software PT3 che è questa web è una piattaforma web che è stata sviluppata dal Dipartimento di Informatica ed Ingegneria Civile Industriale dell'Università di Pisa è finalizzata alla raccolta dei dati e poi l'attribuzione della classe di attenzione ovviamente tutti i dati richiesti ricalcano perfettamente le appendici delle linee guida è una app molto molto semplice da utilizzare innanzitutto perché il professionista incaricato può dopo aver avuto accesso aver richiesto l'autenticazione e aver avuto accesso può creare quella che viene chiamata visita che è sostanzialmente la pagina dedicata a una determinata opera in esame e può tranquillamente dal PC dell'ufficio compilare le schede di livello 0 che abbiamo detto sono quelle di censimento localizzazione per l'attività ispettiva vera e propria ovviamente devo andare in situ quindi da diversi a altri protagonisti essenzialmente l'ispettore può riaprire avere accesso a quella stessa visita quindi la visita può essere condivisa da tutti gli attori in gioco previ ovviamente permessi autenticazione e quant'altro e può essere completata con i dati ispettivi in situ da un dispositivo mobile che può essere un tablet piuttosto che un cellulare ovviamente a parte la compilazione delle schede qui ne vediamo alcuni esempi sulla sinistra è possibile allegare tutta la documentazione che qualunque professionista ritiene opportuna per dimostrare il giudizio emesso possono essere documenti progettuali scansioni foto richiamati dalla galleria del device scattate in sito si possono disegnare degli schizzi è qualcosa di molto è un'app molto versatile e le analisi diciamo poi del calcolo della classe di attenzione sono dinamiche nel senso che la classe di attenzione innanzitutto non viene calcolata finché tutti i dati non sono disponibili e viene indicato quali sono i dati disponibili dopodiché viene calcolata questa classe che può eventualmente aggiornarsi per ispezioni successive che vanno a delineare meglio magari alcuni valori che vanno a modificare il giudizio in esso perfetto ok allora avevo io ho concluso con ringrazio la collega adesso diamo la parola al collega Gabriele Svaluto che ci introduce il primo strumento della piattaforma che è il Trimble Connect quindi primo ambito nel quale si comincia a organizzare in maniera digitale la base dati di questi ipotetico ponte esistente prego sì buongiorno a tutti io sono Svaluto Gabriele direttore tecnico della divisione BIM strutturale di Apaceas e come introdotto dal collega Sattamino poco fa adesso faremo vedere quella che è la prima parte dei software legati a punti sicuri Trimble Connect è lo strumento di aggregazione che andiamo all'interno della piattaforma è uno strumento sviluppato da Trimble è un project collaboration e permette appunto di aggregare e di condividere informazioni e poi anche la gestione documentale gestione documentale che vedremo verso la fine di questo webinar adesso introduco semplicemente Trimble Connect come strumento appunto di aggregazione dei modelli Trimble Connect si basa su piattaforma web esiste anche la versione desktop e la versione mobile sono tutte quante collegate allo stesso progetto e ovviamente oltre a questi questi strumenti che vi ho appena fatto vedere esistono anche dei connector che si montano direttamente all'interno di determinati software e permettono un collegamento veloce tramite appunto il software di modellazione e Trimble Connect è una piattaforma che è organizzata in cartelle come potete vedere si possono in maniera molto semplice aggiungere determinate cartelle e andare a creare dei direttori un po' come se foste nelle vostre cartelle di Windows il caricamento dei file è molto semplice con dei tag and hop vengono caricate direttamente all'interno delle sottocartelle Trimble Connect oltretutto garantisce anche il discorso di protezione del dato e di privacy funziona su invito quindi c'è un proprietario uno o più proprietari comunque del modello che si occupano dell'invito degli altri utenti e si occupano anche di scegliere eventualmente quali sono le cartelle che gli utenti possono visualizzare o in cui eventualmente possono arrivare anche a fare operazioni di modifica tutti i dati sono inoltre tracciati come potete vedere ci sono la gestione delle attività vengono identificate chi carica chi scarica l'informazione chi fa determinate operazioni all'interno dell'ambiente di Trimble Connect inoltre è possibile anche aprire dei to do i to do sono delle attività che è possibile associare a degli utenti quindi io posso dargli ovviamente un titolo una descrizione l'incaricato posso incaricare un intero gruppo un intero team oppure determinati utenti e poi dopodiché posso dargli una data di scadenza e posso andargli a dare una priorità a questo punto all'utente verrà inviata riceverà l'incaricato riceverà una mail in cui verrà notificato questa attività associata se la serie attività è associata a degli elementi dei modelli che dopo andremo a vedere avremo la possibilità anche all'interno del software di modellazione di poter gestire e poter vedere questo to do appunto collegato ai singoli utenti bene adesso io questa introduzione è terminata dopodiché Trimble Connect lo riprendiamo in coda al webinar per la gestione della parte documentale ringrazio collega ringrazio prima di procedere oltre facciamo un altro sondaggio così approfondiamo un attimo di più le caratteristiche dei partecipanti a questo webinar ok ho lanciato adesso il sondaggio vi chiediamo se già avete modo di utilizzare delle piattaforme di model collaboration ok state rispondendo aspettiamo ancora qualche secondo avete risposto quasi tutti lasciamo ancora qualche secondo sì l'ingegnere Redaelli è già pronto va bene perfetto grazie chiudo il sondaggio grazie ok ringrazio la collega a questo punto cedo la parola collega Roberto Redaelli che vi propone l'inquadramento a livello territoriale diciamo dell'opera quindi ampliamo l'ambito di digitalizzazione estendendolo al contesto cosiddetto territoriale prego Roberto certo grazie buongiorno a tutti chiedo gentilmente a Gabriele di interrompere non ti sentiamo Roberto pronto mi sentite pronto mi sentite scusate sì Roberto perfetto grazie procedi pure di terminare con la condivisione dello schermo brevemente io sono appunto Roberto Redelli bin consultant e responsabile tecnico in Arpaceas per quanto riguarda la divisione infrastrutture e introdurrò all'interno del webinar di oggi quella che è la piattaforma collaborativa quadri che ha determinate caratteristiche specifiche per la gestione di progetti legati all'ambito infrastrutturale quindi opere viare e partirei subito nel darvi una visione d'insieme di quello che è appunto la gestione anche l'atto web di quello che è uno strumento di questo tipo in particolare nella possibilità di impostare quelle che sono le caratteristiche del server in particolare dei contenitori di modelli infrastrutturali all'interno del model manager di quadri dove tra le altre informazioni quello su cui voglio puntare all'attenzione è essenzialmente l'aspetto di gestione delle coordinate i sistemi di coordinate che regolano e guidano un po' tutto quello che è poi l'aggregazione dei contenuti informativi associati ovviamente al modello infrastrutturale questa cosa di gestione mettiamo così a livello ok chiudo così almeno vedete meglio lo schermo questa parte di gestione delle coordinate a livello di appunto model manager è fondamentale per poi andare ad agire all'interno dell'applicativo desktop Trimble Quadri che è quello che vedete all'interno di questa vista dove noi ritroviamo a seconda di quello che è il caso studio il progetto in questione una serie di informazioni specifiche che guidano un po' tutta la struttura del nostro ambiente infrastrutturale e in particolare ritroviamo come vediamo qui nelle proprietà della workset di Trimble Quadri le coordinate sistemi di coordinate sia per la parte proiettata che per quella verticale coordinate in questo caso cartografiche questo perché è fondamentale fondamentale perché nell'applicazione in generale della metodologia BIM e anche nello specifico all'interno di quello che è la proposta di Ponti Sicuri la definizione di quelle che sono le condizioni al contorno e la georeferenziazione di tutti gli elementi che caratterizzano non solo nello specifico l'opera del ponte ma anche il contesto nella quale l'opera si inserisce diventano fondamentali diventano fondamentali un po' per permettere un'interoperabilità tra tutti i vari componenti a livello di la chat continua a comparire scusatemi a livello di contributi che vengono sviluppati appunto dicevo dai vari software di modellazione ma anche delle informazioni che in una primissima fase ci aiutano a costituire quello che è il contesto appunto nel quale la nostra opera in senso più ampio vada ad inserirsi infatti le potenzialità di Trimble Quadri ci permettono come vedete da questa finestra di aggregare una serie di contenuti che magari fanno riferimento anche all'ambito del GIS e quindi ciò riguarda l'associazione di immagini satellitari quindi magari andando a ripescare su diversi se riesco a spostare questo qui ok diversi elementi associati ai geoportali che siano regionali nazionali o provinciali io posso pescare una serie di dati molto caratterizzanti l'opera scusatemi l'area di progetto che siano delle appunto immagini satellitari che si rifanno anche in questo caso a sistemi di coordinate ben precisi con i quali io posso appunto creare un dialogo tra quello che è il dato di input e il mio modello contenitore infrastrutturale quindi qui vediamo appunto un ortofoto e questo vale non solo per questo tipo di contenuti ma anche laddove io voglia ad esempio includere una serie di dati GIS che rappresentino l'idrografia il contesto degli edifici le opere viari esistenti piuttosto che le informazioni che nei database GIS portano con sé tutti quei dati che caratterizzano magari anche questo piccolo tratto di strada esistente dicendomi che è una strada campestre piuttosto che andando a interagire con gli elementi che riguardano le caratteristiche delle opere presenti come il ponte quindi il suo materiale l'utilizzo eccetera eccetera questo perché diventa fondamentale non tanto per fare un'aggregazione di tutti questi una pura aggregazione di questi contenuti all'interno di questo ambiente quindi mettendo insieme i vari elementi che si rifanno al mondo del GIS del CAD e anche poi vedremo del BIM ma soprattutto a una loro organizzazione che ritroviamo all'interno dell'explorer di quadri quindi la suddivisione in queste summary task quindi queste sorte di cartelle che io posso organizzare per separare magari per disciplina o per caratteristiche dei dati in oggetto all'interno appunto di tutta la struttura del modello e questi input come vi dicevo servono anche o meglio possono essere rielaborati quindi che sia dei punti di terreno che mi permettono quindi all'interno di quadri tramite delle opportune funzionalità già di modellazione del contesto pur essendo collaborativa come piattaforma ha già queste sue caratteristiche mi permetto di creare ad esempio questo DTM dell'area in esame a seconda dei vari input appunto che voglio utilizzare che siano dati provenienti da geoportali o rilievi in qualunque formato e questo si estende anche se volete alla parte proprio di bimotoring delle infrastrutture di cui ovviamente non è il tema di oggi però giusto per fare un cenno potrebbe riguardare l'attività che io posso sviluppare sia con i moduli specialistici di Nova Point direttamente integrati all'interno di quadri piuttosto che con altri strumenti di modellazione delle opere viarie che mi permettono sia di gestire la parte di tracciamento plano altimetrico che degli elementi che sviluppano poi quelli che sono tutti gli elementi associati a un'opera in questo caso di aria e stradale nello specifico quindi ciascuno di questi oggetti è ben caratterizzato all'interno del modello come una vera e propria feature che poi sono tutti gli elementi che io ritrovo qui dentro indipendentemente che siano nativi del mondo trim Nova Point quadri o che derivino da input differenti con una serie di attributi e metadati questo diventa fondamentale perché significa che io all'interno appunto di questo strumento posso gestire la parte strettamente legata al territorio e alle opere lineari ma diventa ancora di più se torniamo appunto a quello che è l'obiettivo poi della proposta Ponti Sicuri laddove crea una sinergia come in parte anticipava Gabriele nel trasferire queste informazioni e lo vediamo qui a livello di output verso altri strumenti altri strumenti che quindi potrebbero essere vi simulo giustamente e molto brevemente un'esportazione che potrebbe essere quella di un DTM nei vari formati tra cui i FC l'AndXML o altri elementi altre tipologie chiedo scusa più più efficaci datemi solo un secondo andiamo a selezionare quello che è l'elemento considerato andando a appunto gestire chiedo scusa questo tipo di esportazione mi ha tenuto in memoria la parte dell'IFC possiamo trasferire quello che è in sostanza la nostra modellazione sia come esportazione file o direttamente a livello di comunicazione appunto con una piattaforma di collaborazione come Trimble Connect alla quale noi possiamo accedere direttamente da quadri e questo ve lo faccio vedere in fase di esportazione dove qui troviamo vari file già esportati quindi la parte stradale la parte di terreno il fiume che era stato realizzato pescando quell'ambiente appunto che descriveva Gabriele prima con il sistema cartelle questo è molto efficace perché ci permette quindi di creare un dialogo immediato da quadri verso appunto Trimble Connect e viceversa ovviamente laddove poi in realtà noi dobbiamo andare a recuperare quello che poi vi anticipo un attimo ma vi parlerà Gabriele più nel dettaglio è la modellazione della struttura quindi qui noi troviamo il ponte nelle sue geometrie con magari una texture assegnata a seconda dei materiali che questi elementi tramite formato GFC portano con sé quindi qui vediamo un'associazione a quelli che sono gli oggetti ma anche soprattutto i contenuti informativi i vari pisetti i vari attributi utente tutto ciò che è stato inserito e gestito all'interno della modellazione informativa fatta con tecla tramite GFC e tramite il connector con Trimble Connect può essere integrato anche all'interno di quadri mantenendo come vediamo qui e vi anticipo alcuni aspetti quelle che sono le informazioni che caratterizzano l'opera questo vale sia nella connessione ovviamente come vi dicevo con Trimble Connect eventualmente esistono anche altri quadri connector più specifici che permettono di far comunicare quadri in input e in output con vari strumenti di collaborazione di modellazione tra cui tanto per citarne un altro lo stesso tecla structures quindi qui ve lo accenno solamente ma la logica è appunto un po' questa in modo tale che poi alla fine un risultato potrebbe essere anche solo graficamente una cosa di questo tipo dove io vado ad aggregare i contenuti grafici e informativi che caratterizzano appunto il nostro progetto ma quadri essendo una piattaforma collaborativa oltre a quello che è l'aspetto desktop è interessante farvi sottolinearvi un altro aspetto che riguarda invece la gestione via web via web nel senso che esiste una piattaforma appunto come vediamo che è quella che vedete qui quadri for for browser quella di prima era quadri for desktop che ci permette di avere una visione di insieme sull'intero globo di quelli che sono i progetti collaborativi infrastrutturali nei quali siamo coinvolti quindi anche qui la georeferenziazione la ritroviamo nella misura in cui ci identifica chiaramente dove si trova il progetto che stiamo considerando nella dashboard abbiamo le informazioni sui sistemi di coordinate e quelli che sono tutti gli altri elementi che caratterizzano il progetto piuttosto che quello che riguarda invece le attività svolte sul modello collaborativo presente su server una sintesi anche qui di quello che è la struttura del modello stesso e per concludere cerco di spostare un attimo questa finestra la visualizzazione in forma anche di mappa dei contenuti prodotti quindi anche tutti quei dati di cui vi dicevo prima sia che derivino dall'ambito GIS sia che siano prodotti ad hoc nel nostro modello possono essere qui visualizzati ed eventualmente interrogati in combinazione con un background di mappe che possono essere OpenStreetMap piuttosto che Microsoft Roads piuttosto che vorremmo ad aprire Microsoft Imagery tanto per darvi un'idea aspettiamo un attimo che carichi per contestualizzare ancora di più e permettere anche magari alle persone meno operative di avere un accesso a una visualizzazione di questi dati in una forma molto molto immediata e lo stesso vale anche poi per quelle che sono le presentazioni 3D navigabili sulle quali poi si può anche fornire commenti eccetera vedendo poi quella che è l'aggregazione che trovavamo direttamente nella parte desktop anche a questo livello web con tutta una serie di potenzialità sulle quali per questioni di tempo vi risparmio quindi direi a questo punto lascio la parola grazie Roberto grazie Roberto prima di dare la parola a Gabriele Svaluto e alla collega Zirpoli che vi parlano della parte di modellazione tecla structure e del VBS controller e del collegamento programmi di calcolo mi invito tutti i partecipanti che abbiano desiderio di fare delle domande a usare la sezione domande risposte che è disponibile nella parte bassa centrale della schermata di zoom non usate per cortesia la chat raccoglieremo le domande e poi risponderemo alla fine ovviamente cercando di rispettare un po' le tempistiche generali del webinar grazie do la parola al collega grazie mille Paolo ho fatto a condividere di nuovo lo schermo ok va bene ok allora passiamo alla parte legata tecla structure tecla structure è la nostra soluzione per la modellazione di elementi strutturali è un prodotto sviluppato da Trimble al momento ovviamente per un discorso di tempistiche non riuscirò a rivedere tutte le funzionalità di tecla structure ci baseremo solamente su quegli strumenti che permettono la gestione puramente legata ai ponti poi di per sé con tecla structure si può modellare qualsiasi tipo di struttura arrivare a qualsiasi tipologia di livello di dettaglio quindi dalla fase di progetto alla fase del costruito la modellazione dei ponti come potete vedere qui adesso abbiamo un caso esempio che è quello visto anche prima con i collegati da Ellie è un ponte misto un ponte acciaio e cemento possiamo modellare lo sia con i classici comandi legati a tecla structure che con questo plug-in che si chiama bridge che è un plug-in assolutamente innovativo sviluppato appunto da Trimble il plug-in permette di estrudere delle sezioni che possono essere anche a sezione costante o a sezione variabile e permette la loro estrusione lungo un determinato alignment quindi possiamo andare a caricare l'alignment in diversi formati come potete vedere ce ne sono diversi l'XML l'IFC i formati testuali oppure possono essere anche alignment disegnati direttamente all'interno di tecla con i suoi comandi di disegnazione elementi di riferimento a questo punto posso selezionare tutti quelli che sono le linee da prendere in considerazione possono prenderne una o più di una e la modellazione dei miei elementi delle mie sezioni posso riferirla appunto a una o più linee di allineamento posso inserire le sezioni le sezioni possono essere presi da catalogo presi da libreria salvate ovviamente su file condivisi con i vari utenti o comunque con i vari progettisti o possono essere anche disegnate direttamente all'interno dello strumento a quel punto basta inserire quello che è l'intervallo in cui andare a far modellare e a age creator il nostro concio e lui andrà a fare la creazione di questo elemento estruso inoltre è possibile inserire anche degli elementi chiamiamoli una tantum che sono in questo caso ad esempio le pile oppure andare a inserire oltre alla soletta in cemento o comunque l'elemento in cemento anche tutti gli elementi in acciaio sia longitudinali che trasversali adesso giusto per rendere l'idea ho già fatto un piccolo pacchetto di configurazioni vado a dargli un nome al mio elemento ok vado a fare la creazione e adesso viene modellato vedete come potete vedere viene modellato i nostri elementi a quel punto una volta analizzati noto che manca una trave posso tranquillamente andare ad implementare e anche la trave longitudinale che manca vado a prendere ad esempio da catalogo un profilo un HIA 1000 vado a dargli le informazioni sufficienti per la sua disegnazione in questo caso gli do un colore così lo vediamo subito gli do i punti di inizio e di fine che coincidono ovviamente con le coordinate a cui stiamo lavorando l'intervallo in cui deve andare a lavorare lui e poi vado a dargli la rotazione dei nostri elementi in maniera da prenderli coerenti con il resto della struttura quindi il fatto che sia sotto al punto di applicazione e la rotazione dopodiché gli dico che lo deve legare a un determinato punto del riferimento dell'alignment e vado a selezionare il mio elemento di Ikea in questo modo andrà ecco come vedete non è andato a ricreare gli elementi altrimenti avremmo visto delle sovrapposizioni ma è andato ad aggiungere quello mancante bene ovviamente il ponte è possibile modellarlo anche nella sua quasi complessità con lo strumento poi andando a implementare soltanto eventuali cose che di dettaglio che mancano inoltre non l'ho detto prima ma è possibile far sì che anche le pile ad esempio possano essere direttamente variabili in questo caso con i pali per poter seguire l'andamento del terreno detto questo un'altra funzionalità presente con il pacchetto ponti sicuri è questo strumento che si chiama VBS controller che è uno strumento che permette di associare ai nostri elementi quella che è la VBS la VBS è uno strumento di organizzazione gerarchica dei componenti che compongono l'opera e questo è utile al fine di facilitare l'intracciabilità di tutti quanti i componenti un esempio potrebbe essere per la pianificazione delle attività di ispezione oppure anche rimanendo strettamente legati a tecla per la rappresentazione bidimensionale quindi legato ai disegni per le stazioni di reportistica per l'intracciabilità del pezzo quindi tutte quelle funzioni che permettono appunto di andare e operare sui singoli elementi questo tool appunto sviluppato da Arpaceas permette di creare la VBS come vedete ci sono già c'è già una VBS di base creata in questo caso vedo che manca un palo nella VBS posso tranquillamente andare ad aggiungerlo quindi vado ad aggiungere un nuovo un nuovo ramo della VBS è il numero 4 li chiamo palo 4 ok salva e la mia VBS viene in questo caso aggiornata a quel punto sarà sufficiente selezionare a modello gli oggetti andare a leggere la selezione dal VBS controller e poi scegliere la modalità di selezione posso selezionarli dal mio dal mio modello e lui in automatico mi andrà a visualizzare e a selezionare nella lista e a quel punto posso dire ok palo e vado e mi va a compilare tutti i pali prendo la seconda la seconda pira e faccio la stessa cosa e vado avanti così associandolo in maniera molto veloce e intuitiva a tutti quanti gli elementi stessa cosa posso andare sopra ad esempio questa è tutta quanta la pila 1 faccio così e me lo seleziono a tutte viceversa potrei anche identificare gli oggetti tramite questa finestra come potete vedere se seleziono gli oggetti lui me li seleziona gli oggetti dentro al modello fatte tutte le opere di compilazione vado a fare il commit della modifica quindi vado a fissare all'interno degli attributi utenti le le mie scritture poi posso andare a verificare quanto ho fatto perché comunque lui è andato a scrivere all'interno di determinati in un determinato pset degli attributi specifici che poi verranno esportati direttamente all'interno dell'IFC quindi se io faccio esporta l'IFC ci sarà una configurazione ponti sicuri che mi permetterà già di associare i dati della VBS nel pset corretto parallelo alla VBS c'è anche l'opera di classificazione delle parti anche quella è un'opera un'impostazione che è stata fatta per il tool ponti sicuri è disponibile per tutti coloro che decidono di acquistare il tool e la classificazione è un'opera di categorizzazione degli elementi che mette a fattore comune tutti quelli che sono gli elementi con caratteristiche identiche poi indipendentemente dal fatto se questi stanno in una VBS o stanno in un'altra VBS sono due strumenti paralleli che permettono comunque la intracciabilità dei pezzi e sono complementari tra di loro inoltre la classificazione l'abbiamo creata in maniera molto flessibile perché ovviamente deve essere poi deve seguire quella che sarà la normativa che al momento non è ancora disponibile per quanto riguarda appunto la classificazione degli oggetti e seguire la classificazione appunto che sarà presente dentro YNOP nello specifico gli attributi utenti sono collegati alle parti c'è una classificazione impostata per il sistema funzionale quindi un po' per l'oggetto assemblato e una classificazione legata ai componenti quindi ai singoli elementi una volta fatte queste scelte l'utente non dovrà fare altro che cliccare su un pulsante che va a fissare la classificazione nei suoi campi e andrà a calcolare in automatico quelli che sono i codici della classificazione fatto questo poi l'esportazione in IFC andrà effettivamente a seguire e anche a inserire anche questi dati ultima cosa che andiamo a vedere su Tecla il collega Roberto e Daelli prima accennato il connector c'è un connector tra Trimble Connect e Trimble Quadri ci sono connector tra Tecla Structure e Trimble Connect come anche tra Tecla Structure e Trimble Quadri vi faccio vedere solamente questo qui questo è il connector tra Trimble Connect e Tecla Structure la strada che avete visto in quadri poco fa io con un semplice clic posso andare a leggerla dal cloud in cui collega la caricata e riuscire a visualizzarla direttamente in Tecla per poi andare a fare la mia costruzione del ponte o tutte quante le mie verifiche il fatto che sia collegata dal cloud è in del modello estremamente veloce estremamente malleabile e non da assolutamente nessuna tipologia di problematica detto questo logicamente ho tutta la parte di rappresentazione sui disegni eventualmente che posso andare a fare vi faccio vedere soltanto un disegno eccolo qua legato alla classificazione ci sono già dei settaggi che permettono l'output come tabella in formato tabellare della classificazione sia della parte di componente che del sistema funzionale con la sua leggenda le sue impostazioni e come come sui disegni li abbiamo anche eventualmente sulla reportistica con una serie di report già già creati che poi potete andare a utilizzare all'interno dei vostri modelli ok io su questo lascio la parola ai colleghi e ringrazio cedo subito la parola alla collega Zirpoli qualche informazione sul tema del collegamento con la parte di calcolo benissimo grazie dunque per quanto riguarda l'aspetto del dialogo tra il modellatore BIM strutturale Tecla Structures e il mondo del calcolo abbiamo molteplici opzioni allora innanzitutto è possibile scegliere che tipo a seconda in genere questa scelta viene fatta sulla base del modello dell'opera che si sta esaminando che tipo di collegamento utilizzare un collegamento mediante formato aperto IFC adesso qui c'era scritto anche di XF e di VG però parliamo di formati meno obsoleti quindi in primis certamente un collegamento tramite formato aperto universale IFC che permette sia attraverso il IFC Analysis Domain un collegamento proprio degli oggetti di analisi comprensivi anche di carichi vincoli svincoli interni però l'IFC lo ricordo infatti qui ho messo un'immagine viene utilizzato anche a ritroso soprattutto per il trasferimento delle armature progettate dal programma di calcolo indietro verso il modellatore BIM un'altra tipologia di collegamento che può esistere da tecla verso il mondo esterno è il collegamento diretto che è certamente il più utilizzato perché è il collegamento che ottimizza il dialogo in quanto permette di far dialogare tecla e il programma di calcolo scelto attraverso la loro lingua madre e quindi abbattendo chiaramente possibilità di errore o fraintendimenti tra i due software il link diretto qua ho voluto riportare una parte del manuale di tecla vedete che link diretti sono disponibili da tecla verso i più famosi più comuni software di calcolo sono tantissimi qua sono riportati solo i più importanti di cui ricordiamo in particolare Midas e Modest tecla permette anche però di esportare in formato IGS e Step che viene sono diciamo dei formati molto utili siamo in questa parte centrale della slide per la modellazione al continuo di geometrie complesse oppure per sempre modellazione al continuo per svolgere delle analisi di dettaglio prima di mostrare il per mostrare tecla diciamo con cognizione di causa voglio solo far vedere due slide in cui ho voluto raccogliere i principali aspetti che il dialogo deve tenere in considerazione non tanto il dialogo in sé cioè non tanto il formato di trasferimento ma proprio il software BIM strutturale nella costruzione del modello di analisi per questo deve essere importante il modello di analisi viene costruito nel modellatore BIM strutturale all'interno di esso da un algoritmo che è presente nel modellatore BIM e dopo il risultato viene trasferito attraverso i vari formati che vi ho detto al software di calcolo il software di calcolo deve arrivare un prodotto che è già praticamente sfruttabile già praticamente quasi pronto i principali aspetti sono questi certamente il filtraggio degli oggetti perché bisogna discernere da ciò che deve passare al calcolo ai dettagli che invece servono solamente per il costruttivo e che eventualmente possono passare al calcolo sotto altri formati per essere analizzati però localmente il ripristino della congruenza è fondamentale questo nel mondo BIM ma non esiste mentre il mondo FEM è fondamentale e il ripristino della congruenza è dovuto al passaggio dall'ingombro 3D dell'oggetto nel mondo FEM all'elemento monodimensionale finito nel mondo del calcolo il posizionamento dell'elemento finito rispetto all'ingombro 3D per poi qui ho citato anche alcuni aspetti minori come il posizionamento il riconoscimento di elementi secondari rispetto ai primari non sto parlando lato sismico non c'entra nulla per diciamo guidare il il software BIM nella creazione del modello di analisi e poi ovviamente il passaggio la discretizzazione di oggetti curvi che nel mondo FEM non esistono in oggetti piani tutto questo e molto altro ripeto cioè su questi argomenti noi facciamo corsi di mezza giornata qui ho veramente elencato solamente quattro aspetti principali il DECLA lo gestisce attraverso una appunto una scheda apposita che la troviamo nella menu analisi e progetto ed è la scheda modelli di analisi e design qui io avevo precedentemente già impostato il mio modello di analisi ne prendiamo le proprietà allora questa è diciamo la scheda di tecla che a livello globale una sorta di criteri di criteri generali che riguardano tutto il modello decidono sugli aspetti che ho appena citato quindi guardate ad esempio ad esempio quante tendine noi abbiamo quanti filtri abbiamo sul modello sugli elementi di controvento sugli elementi secondari proprio perché certamente è fondamentale il fatto di avere un buon filtro all'inizio per passare al modello d'analisi solo ciò che effettivamente poi sarà tenuto in conto tra l'altro sul esempio faccio un esempio di utilizzo sugli elementi di controvento noi qui avevamo due diverse tipologie di controvento forse prima non si vedeva lo faccio vedere prima da qua prima di aprire il modello di analisi se no è sovrapposto allora ok ecco scusate qui abbiamo sia dei controventi veri e propri di cui si è deciso nel modello di analisi di tener conto ma poi avevamo anche altre tipologie di elementi che sono comunque rientrati nel gruppo dei controventi che sono questi in giallo ecco qua si vedono meglio che però sono stati ritenuti solo come oggetti di irrigidimento della soletta sovrastante di conseguenza se voluto passare al calcolo solo questi controventi orizzontali veri e propri quindi questo è un esempio di utilizzo di un filtro specifico sui controventi qua inoltre mettiamo in evidenza ad esempio tutte queste piastre di collegamento con appunto in questo caso gli elementi di controvento queste piastre di collegamento in realtà sono proprio le prime che vanno filtrate perché su questo al limite si faranno delle analisi locali riapro un attimo qua il mio la mia finestra ok quindi detto questo quindi una volta superati tutti i nostri filtri abbiamo ancora una volta la possibilità comunque di richiedere il modello completo ovviamente comprensivo di questi filtri cioè al netto di questi filtri oppure effettuare una selezione su questo modello al netto dei filtri andando avanti altre opzioni importanti che troviamo qui sono ad esempio ecco che in questo caso abbiamo sfruttato la possibilità di vedere i profili accoppiati come un unico elemento BIM con una sezione data appunto da un profilo accoppiato piuttosto che il posizionamento dell'oggetto dell'elemento finito rispetto all'ingombro tridimensionale piuttosto che la gestione delle parti curve e quant'altro questi criteri sono a livello di modello volendo però io qui posso dare questi criteri per gruppi di elementi avendo prima opportunamente raggruppato gli elementi piuttosto che anche addirittura sul singolo elemento facendo un tasto destro proprietà posizione e analisi scusate anche analisi l'ultimissima cosa vedete l'ultimissima scusate l'ultimissima cosa che volevo mostrarvi è che il modellatore BIM siccome io voglio che il modello al software di calcolo arrivi un modello praticamente quasi pronto io devo poter vedere sovrapposto al 3D il modello a elementi finiti che è quello che propone tecla con anche guardate i bracci rigidi che lui ha inserito di connessione proprio per recuperare quei gap che esistono tra l'unifilare e il 3D e posso anche voler agire direttamente su questi elementi questi elementi qua sono né più né meno che come travi pilastri come gli elementi 3D io posso andare a spostare i nodi modificarli unire i nodi aggiungere dei collegamenti rigidi posso già modificare il modello di analisi prima di passarlo al FEM questo è ok non mi dilungo oltre ho messo in luce diciamo le principali potenzialità di Tecla Structures per quanto riguarda la generazione e la gestione del modello di analisi grazie ok ringrazio la collega adesso cedo la parola collega Gabriele Svaluto che va in conclusione della presentazione della piattaforma riprendendo il discorso relativo al Trimble Connect prego sì eccoci qui vado a condividere di nuovo lo schermo ok dovreste vedere perfetto quello che vedete adesso è l'interfaccia desktop di Trimble Connect come abbiamo come avevo anticipato nella prima parte dell'intervento Trimble Connect funziona sia in modalità web che desktop che eventualmente mobile oppure anche tramite il caschetto XR10 sempre collegato ovviamente allo stesso progetto XR10 ovviamente il caschetto da cantiere che monta HoloLens la visualizzazione delle cartelle come potete vedere è la stessa vista prima all'interno dell'interfaccia web nella versione desktop è anche possibile salvarsi determinate viste dove io velocemente posso andare a caricare determinate configurazioni oppure posso selezionare uno o più oggetti e poi andare a visualizzarli direttamente dal mio albero a sinistra allora vado a caricare una vista come potete vedere prima abbiamo detto che Trimble Connect fungeva da aggregatore quindi ho salvato un'impostazione dove c'è sia il modello strutturale che il modello infrastrutturale all'interno della stessa vista e quindi posso caricare tra l'altro qualsiasi tipologia di file visualizzabili all'interno di Trimble Connect i file sono veramente di diverse tipologie per quanto riguarda la parte di documentale vi presento adesso il tool che si chiama Document Controller un altro tool che abbiamo sviluppato noi come Arpaceas e permette una netta implementazione di tutte quelle che sono le funzionalità della gestione documentale di Trimble Connect il tool funziona ad accesso l'accesso ovviamente deve essere permesso al determinato utente all'interno del progetto sempre per garantire il discorso di sicurezza del dato e privacy di cui parlavamo prima ci sono diverse tab caricamento documenti mi permette di scegliere da tramite il mio computer o ovviamente un disco esterno dove voglio i file da caricare posso andare a prendere i miei dati li seleziono i miei file li seleziono lui me li elenca e scelgo semplicemente la cartella reposita e dove andarlo a mettere con la voce carica file lui me li carica in maniera in maniera veloce successivamente abbiamo la voce della gestione degli allegati da qui possiamo andare a identificare e andare ad associare i documenti agli vari elementi quindi andiamo a fare una prova vado a selezionare quelli che sono alcuni elementi presenti nel modello e poi vado a selezionare quelli che sono gli elementi da allegare ad esempio la scheda di difettosità dei pali e poi posso andare anche a associare ad esempio una foto del cantiere vado ad allegare gli oggetti ai vari elementi selezionati come vedete è immediata il caricamento a breve riceverò anche la notifica con il simbolino del caricamento del fatto che qua c'è un come si chiama c'è un documento siccome è un aggiornamento una sincronizzazione che fa lui tra il modello desktop e il modello web ci mette qualche secondo sono andato a forzare io adesso la sincronizzazione tramite il suo pulsantino adesso finisce di infatti come avete visto adesso sono presenti anche i simbolini di documenti e selezionandone uno all'interno mi dirà che questi pezzi sono presenti è possibile visualizzare anche la WBS la WBS ovviamente che è presente all'interno del file IFC che abbiamo esportato noi possiamo ad esempio selezionare velocemente come potete vedere tutti gli elementi presenti in determinati armi della WBS e caricare le informazioni all'interno del nostro modello del nostro spazio modello queste qua sono ovviamente tutte quante personalizzabili come colonne quindi posso vedere quello che effettivamente necessito e ho la possibilità anche di fare il contrario andare a selezionare un determinato oggetto andare a fare il caricamento e lui mi dice quali sono effettivamente le informazioni della WBS presenti su quell'elemento oppure selezionando sempre un mio ramo della WBS andare a selezionare qual è la parte e lui mi fa lo zoom in modelli abbastanza complessi possiamo anche cambiare la metodologia di evidenziazione in maniera ad avere subito al volo l'identificazione del nostro pezzo come dicevamo come dicevamo prima la WBS è un ottimo metodo anche per l'associazione documentale quindi io potrei andare ad esempio a selezionare tutta una serie di elementi come gli appoggi una volta selezionati andare con la voce della gestione allegati andare al volo a caricare come abbiamo visto prima i miei file sui documenti ultima cosa che vi volevo far vedere è che all'interno di ogni singolo oggetto sono presenti ovviamente le informazioni essendo un IFC sono presenti le informazioni che abbiamo scritto prima sono stati realizzati dei P-set dedicati sia per la WBS che per la classificazione e questo ci permette ovviamente di fare delle rappresentazioni con colori dei nostri modelli sia in base alla classificazione che eventualmente in base alla WBS bene io con questo ho terminato grazie ringrazio collega abbiamo concluso la presentazione delle piattaforme grazie a tutti e buona giornata grazie grazie a tutti grazie